È arrivata poco prima delle 11 al cimitero dell'osservanza di Faenza la bara di Ilenia Fabri, la 46enne uccisa il 6 febbraio scorso nella sua abitazione di via Corbara. Poche le persone presenti, alcune telecamere, alcuni giornalisti e alcune amiche con le scarpe rigorosamente rosse e alcuni mazzi di fiori. I familiari di Ilenia erano già entrando da una porta laterale dentro la chiesa. Il funerale si è svolto in un clima di assoluto riservo alla presenza della polizia in Borghese. Le indagini proseguono ma non vi sono ulteriori elementi e novità in queste ore.